Musica 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 Ma di seguire l'attività che abbiamo più seguita nel musical di Musica Neva, o là che il teatro si è messo ad acqua con la chanties e la musica. Chines e i ballarins chantarinse, compagnie dai componenti del cor della scuola e dalla musica autofascia. Musica A mettere tutti insieme il professor Germano Basile e Thomas Zulian, che si adatta su per chiedere a vini studenti l'occasione di portare danzi e talenti. Musica 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 Grazie per la visione!